Siamo nella parrocchia di Tavernelle davanti alla chiesa e sono Don Pier Giorgio il parroco e Don Quisera Jamari. Questa mattina abbiamo avuto una brutta sorpresa al risveglio. C'è stato un furto dalle 2 alle 5 perché altri orari controlliamo abbastanza nella chiesa e poi nella sagristia. Normalmente a quei orari i ladri hanno forzato la porta della chiesa. Si vede dove sono entrati e rompendo anche il vitro della porta della sagristia. Sono entrati dentro e hanno preso alcuni oggetti sacri, per esempio un calice, porta candela per esempio. Gli oggetti di oro, veramente si vede che volevano gli oggetti sacri in oro. Ecco perché hanno preso un calice che sembra in oro e l'hanno preso via. Gli altri che pensavano che siano oggetti di oro li hanno buttati in incesto all'ingresso della chiesa. Normalmente l'abbiamo vista al mattino e è successo così, è un dispiacere veramente. Ecco vedendo questi oggetti da scasso, molto rudimentali, mi viene da fare una riflessione come questa nostra società purtroppo è scassata, sconquassata. I furti e altri reati aumentano sia nei piccoli paesi che nei grandi, nelle città. Chiediamoci veramente che cosa possiamo dare e perché avvengono tutti questi reati. Rubare è male, pensiamo a quante persone hanno fatto questa esperienza, vengono segnate per sempre, in cerca magari di quei piccoli oggetti. Rubare cose sacre è sacrilegio, quindi un'offesa a Dio. Spero che quei calici rubati, alcuni sono antichi, non servono per far messe nere o altro. Rubare in una comunità cristiana è tre volte male perché si offende una comunità. Quegli oggetti sono frutti di sacrifici, di doni, eccetera. Questa sera, se posso, faremo un incontro di preghiera di riparazione alle 20.30 per pregare anche per queste persone. Chi sono? Non lo sappiamo. Speriamo che Dio tocchi il cuore e che non facciano altre cose brutte per le persone. Intanto ringraziamo la Forza dell'Ordine che ci sono venuta a vedere ciò che è successo e ringraziamo soprattutto la TV che trasmette questa notizia, questa brutta notizia per tutto il popolo che sappiano ciò che è successo, ma che siano anche svegli, anche coloro che ci sentono, che l'avranno fatto, che sappiano veramente che è una cosa umana.